Regalo di nozze di Rossana Rossana rimase senza parole, ma io ho sempre creduto e cominciò. Poi si interruppe. Bene, è in Lombardia che mio marito era diretto quando è fuggito da casa, e prima o poi lo ritroverò. È chiaro che devi amarlo proprio tanto, disse la vicina di casa. Fare tutta questa fatica con Valentina, affidata a tua madre, la donna, insegnante in pensione, fissava la bambina. Rossana si rigidì. Lo ritroverò, disse. Farò meglio della polizia. Secondo me sei in trappola, disse la vicina di casa. Anche se lo ritrovi, tuo marito non ti ama più. Rimasero entrambe a contemplare le tazzine di porcellana, regalo di nozze di Rossana. Pensieri fuggitivi, come blocchi di ghiaccio, annunciavano a Rossana il suo prossimo fallimento nella ricerca accorata del marito, primo violino dell'orchestra di cui faceva parte. Sarà andato a Milano, ma dove? Si chiese Rossana ad alta voce. Segui il tuo istinto, disse la vicina di casa. Non mi avevi detto che tuo marito mostrava interesse per una sua studentessa che studiava violino con occhi da gatta, che portava grandi orecchini di metallo. Rossana legge tono, chieda ostile. Ma che c'entra? Mio marito è innamorato di me. E allora perché se n'è andato? Vedi, disse la vicina di casa, quando scatta l'incarnazione come essere umano, scatta la consapevolezza di avere un io, l'io tiranno. Ed è il tuo io che adesso ti ha fatto dire che tuo marito è ancora innamorato di te. Ma perché? Chiese Rossana delusa. Perché dalla prima incarnazione umana inizia a vigere la mente. Dalla prima incarnazione umana inizia a vigere la personalità. Dalla prima incarnazione umana inizia a vigere l'io, che è tutte queste cose insieme e che adesso si scontra con la fuga di tuo marito. Vorrei tanto rannicchiarmi sotto le lenzuola con accanto il corpo caldo di mio marito, si lamentò Rossana. Sì, e questa mancanza è la lezione evolutiva che devi apprendere adesso, che ti farà salire spiritualmente, disse la vicina di casa.